Ulteriori notizie ci arrivano in merito alla vicenda Luka Jovic Stando alle ultime indiscrezioni, Zinedine Zidane avrebbe dato il suo benestare alla partenza dell'attaccante da Madrid Come sappiamo, il serbo non rientra nei progetti attuali e soprattutto futuri della dirigenza che da una parte non vorrebbe perderlo in quanto l'ha acquistato a 60 milioni di euro, ma dall'altra è perfettamente consapevole che difficile sarà il rilancio se rimarrà tra le file dei Blancos Jovic può partire, per lui il Milan avrebbe pronto un contratto con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni ed al verificarsi di alcune condizioni quali reti segnate e posizionamento in classifica dei rossoneri Il serbo viene considerato dal futuro dirigente e probabile allenatore Randic come un elemento importantissimo per l'attacco milanista, con Rebic potrebbe tornare a formare quella coppia esplosiva ammirata ai tempi delle Intracht Francoforte Stefano Pioli sta facendo di tutto per mettere in difficoltà la dirigenza rossonera, ovviamente nel senso buono delle cose Il tecnico Parmigiano arriva da un'importante vittoria in casa contro la Roma per 2-0 e si porta dietro qualche dubbio, ma anche molte certezze Difficile per Gazzidisco adesso fare finta di niente e proseguire nel progetto Randic I rossoneri in campo giocano con maggiore serenità, ma allo stesso tempo hanno acquistato grinta, consapevolezza nei loro mezzi ed una stima che probabilmente prima non c'era Le mie convinzioni su Pioli rimangono le stesse, non lo vedo come un condottiero di una squadra da scudetto, ma è indubbio che questo Milan gli calzi a pennello Il tecnico ha saputo dare un ruolo ad ognuno dei propri giocatori semplicemente lasciandoli giocare al calcio e senza ingabbiarli in tatticismi difficili da digerire per dei ragazzi dall'età media di 20 anni che probabilmente Gianpaolo voleva fare crescere troppo in fretta ed in modo troppo complicato Difficilmente il Milan tornerà indietro, la proprietà Singer ha scelto Randic per il nuovo corso e difficilmente Pioli rimarrà in panchina con il tedesco dirigente Troppo diversi i due profili, troppo diverso il loro calcio ed il modo di vedere le cose Grazie a tutti